Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale dedicata all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Settembre è lontano ma il rientro in classe degli studenti è già un tema di attualità, un rientro ovviamente in sicurezza e la convivenza con la pandemia è un tema che è stato affrontato dal Parlamento toscano. Due i provvedimenti che hanno ricevuto il via libera, il primo impegna la Giunta regionale e a predisporre con l'avvento del nuovo anno scolastico test antigenici salivari a tutti i ragazzi. Approvata con voto favorevole all'unanimità dal Consiglio regionale una mozione in merito all'utilizzo dei test antigenici salivari per gli studenti in vista dell'apertura delle scuole in sicurezza. L'atto è stato presentato da Stefano Scaramelli di Italia Vive e da Cristina Giacchi del PD e come ha spiegato Scaramelli in aula impegna la Giunta regionale ad adoperarsi alla luce delle ultime indicazioni del Ministero della Salute per a predisporre e consentire l'utilizzo del test antigenico salivare in tutte le scuole toscane per renderle sicure e garantire in questo modo la didattica in presenza migliorando la capacità di monitorare e tracciare la presenza del virus all'interno della comunità scolastica. La mozione infine conferma come la didattica in presenza rappresenta un obiettivo prioritario e che perciò è necessario mettere in atto tutte le misure anticontagio per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Sì, bisogna lavorare fin da subito per consentire una ripartenza della scuola quando terminerà l'estate, nelle condizioni che mettano veramente i ragazzi a poter lavorare bene in presenza, fare tutte le misure, adottare tutte le misure che consentono soprattutto ai ragazzi di stare in classi, a distanza, avere docenti, un numero congruo ma soprattutto un atto importante, il nostro, quello che porta all'utilizzo dei tamponi salivari come grande elemento di novità. Il tampone salivare è una cosa semplicissima, basta masticare come fosse una gomma, tempo pochissimi secondi, si ha la risposta, non è invasivo, si può fare anche più volte durante la giornata, si può fare prima di entrare, prima di uscire ed è un meccanismo semplicissimo. Questo atto è importante e abbiamo chiesto che la regione toscana sia apripista su questo percorso per le scuole, per la didattica in presenza ma anche per lo sport, per i centri educativi, per i centri di socializzazione, per la ripartenza di un quadro di normalità che quando sarà a settembre ci consentirà quindi ai ragazzi di avere delle opportunità di stare in presenza senza doversi sottoporre al tampone o senza fare eccessive livelli di precauzioni così come avviene di fatto nel mondo dello sport professionistico. Adesso si potrebbe fare perfino nello sport e nelle scuole con tamponi salivari e questo sarebbe un elemento di grande novità. L'altro provvedimento discusso e che ha avuto il via libera nella sede del Consiglio regionale della Toscana relativo alla scuola è inerente il sovraffollamento delle classi. Le criticità prodotte dal sovraffollamento delle classi e sulla richiesta di attivazione dell'organico Covid anche per l'anno scolastico 2021-2022 sono al centro della proposta di risoluzione approvata dall'Aula con voto unanime e illustrata dalla Presidente della Commissione Cultura Cristina Giacchi che si è concentrata sul dimensionamento della scuola pubblica un sistema di norme complesso fermo al 2009. Due cose fondamentali. Una è la revisione della norma regolamentare che governa il dimensionamento della scuola cioè che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni presenti nelle classi perché questa norma è vecchia ormai di molti anni e l'ultimo aggiornamento risale al 2009 chiaramente non tiene conto delle necessità di distanziamento tra gli studenti che invece il Covid ci ha imposto e che ha visto la didattica sospendersi quando questo distanziamento non poteva essere garantito. Allora chiediamo che venga rivista questo limite e venga abbassato in modo che le classi siano composte da meno studenti e che si possa garantire la frequenza e presenza in sicurezza. L'altro punto fondamentale nell'attesa che avvenga questa importante modifica normativa è che venga predisposto anche per quest'anno l'organico Covid, il cosiddetto organico Covid cioè un contingente di insegnanti in più che consenta di fare più classi con minore numero di alunni per classe. Questa è una risposta di breve periodo, immediata, chiaramente implica un impegno di risorse importanti per il Ministero di Istruzione ma crediamo che il bene e il valore della didattica in presenza siano da tutelare e da salvaguardare in ogni modo con la ripresa di settembre. Per questo la Quinta Commissione ha proposto all'Aula, approvandola all'unanimità, un provvedimento che chieda di attivarsi incisivamente con il Governo per ottenere queste due modifiche. Una di breve periodo, ripeto, è una di più lungo periodo che consenta di ragionare strategicamente sulla scuola con maggior cautela e attenzione. Sicuramente sono delle misure che sono utili ma dobbiamo pensare naturalmente a quello che è poi anche il benessere degli studenti all'interno delle loro aule. e credo che sia necessario a questo punto cominciare a pensare anche a delle soluzioni differenti e modulari per gli spazi nel quale i ragazzi vengono accolti. Questo non soltanto nell'ottica dell'emergenza Covid e del necessario distanziamento ma anche per un benessere degli studenti e degli insegnanti all'interno delle aule e delle scuole. Bisogna dire che la Regione Toscana da questo punto di vista non è sicuramente ben messa perché abbiamo moltissime scuole, moltissimi istituti che non rispettano nemmeno i requisiti minimi e questo lo avevamo verificato con dei sopralluoghi che avevamo fatto negli anni scorsi. Quindi si parte da una situazione piuttosto negativa decisamente e sarà necessario quindi un'accelerazione da questo punto di vista perché non credo sia possibile accogliere di nuovo gli studenti in condizioni inadeguate con il nuovo anno scolastico. Studenti che hanno sofferto veramente molto per la didattica a distanza, la mancanza di socialità in questo periodo e il contatto diretto tra di loro e con gli insegnanti. Quindi tornare prima possibile alla didattica in presenza e al 100% e garantire anche la sicurezza deve essere una delle nostre priorità. Dall'aula del Consiglio regionale è arrivato il via libera anche alla legge che cambia la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale della Toscana. Cambia la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale contenuta nella legge regionale 1 del 2009. L'obiettivo è quello di renderla coerente con i principi sanciti dalla normativa nazionale. Sulla base dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti i direttori vengono collocati di nuovo nella dotazione organica della Giunta regionale definendone il relativo trattamento economico. La legge è stata approvata con 24 voti favorevoli, uno contrario e due astenuti. Il risultato che si è raggiunto in Consiglio regionale con l'approvazione della legge sul personale è un risultato importante, direi quasi straordinario, per le modalità con le quali si è giunti a questo risultato. Io rivendico nella mia veste di Presidente di Commissione di aver articolato i lavori della Prima Commissione in modo tale da rivendicare in maniera anche prepotente la dignità e il ruolo che deve avere il Consiglio regionale, che deve avere anche l'attività che si fa in Commissione per l'approvazione delle leggi. L'indirizzo politico che avevamo maturato, che avevo maturato io come Presidente di Commissione, ma che aveva maturato anche il gruppo del Partito Democratico, era quello di dar vita ad un atto che fosse esclusivo recepimento delle indicazioni che ci erano arrivate dalla Corte dei Conti nel riportare le figure dei direttori e poi anche quella del Direttore generale e del Segretario del Consiglio regionale nella pianta organica dei dirigenti. E così è stato fatto. Le uniche disposizioni che escono da questa approvazione sono il recepimento delle indicazioni della Corte dei Conti. Tutto quello che era estraneo a quelle indicazioni non è più contenuto nel testo di questa legge. Questo è il risultato di un'importante attività che si è svolta in Prima Commissione e poi anche in Aula e questo soprattutto è il risultato di una ampia rivendicazione della dignità e del ruolo dei consiglieri regionali nell'esercizio della propria funzione legislativa. Non si è parlato di nomine di direttori prima che qualcuno pensi che la Regione stia nominando nuove figure, ma semplicemente di un adeguamento della normativa esistente che c'è richiesta dalla Corte dei Conti. In pratica fino ad oggi i direttori venivano nominati dal neoeletto governatore, una volta eletto e non c'erano limiti né indicazioni sulla durata dei contratti, potevano essere nominati per la durata dell'intera legislatura, ma anche soltanto per un anno. E quindi dopo un anno poter essere sostituiti la Corte dei Conti ci ha imposto, sia da un punto di vista economico di gestire i fondi a loro destinati in una determinata maniera, sia da un punto di vista contrattuale di fissare le durate. Quindi era una legge dovuta, era un adeguamento dovuto, una richiesta della Corte dei Conti su cui si è montato un caso nazionale. Abbiamo visto il Presidente Bugliani e il Presidente Gianni litigare, becchettarsi in Consiglio, rimandare questa legge che ha subito emendamenti e contro emendamenti. Era semplicemente una legge di adeguamento, una richiesta della Corte dei Conti da fare in 5 minuti il Partito Democratico in Toscana è riuscito a montarci sopra un caso e a farlo durare due mesi. Alla fine sono arrivati in fondo in maniera, tutto sommato, anche un po' raffazzonata, passatemi il termine, non a caso alcuni emendamenti presentati dallo stesso Partito Democratico sono stati ritenuti non corretti tecnicamente dai tecnici della Regione. Alla fine la legge è comunque arrivata in aula, noi ci siamo astenuti proprio in virtù del fatto che fosse una legge da una parte dovuta ma dall'altra che ha subito un iter, diciamo poco chiaro, almeno così, però ecco non passi il messaggio che la Regione sta facendo nomini o che nominerà nuovi direttori, era semplicemente un adeguamento dovuto a una richiesta della Corte dei Conti. Noi non abbiamo partecipato al voto, non abbiamo partecipato al voto in quanto siamo arrivati alla fine di un iter che abbiamo definito in aula quasi come un telefilm a puntate. Questo è un provvedimento che è nato per adeguarsi a delle prescrizioni della Corte dei Conti e è diventato un terreno di scontro di fatto all'interno della maggioranza. Un terreno di scontro che si è consumato appunto in Commissione attraverso una serie di tappe, diciamo di sedute che poi tra scontri più o meno latenti hanno portato al testo che è arrivato oggi in aula. Quindi come dire, una partita interna, vedremo se poi il ruolo delle Commissioni che è stato anche fortemente rivendicato dal Presidente Bugliani sarà e sarà mantenuto diciamo al centro dell'attività legislativa senza ulteriori tentativi di forzature da parte della Giunta oppure se assisteremo da qui ai prossimi mesi, ripeto, a un ulteriore scontro al quale noi, diciamo come opposizione, sicuramente ci apprestiamo ad assistere. Ed infine la cultura che torna alla Villa Medicia di Seravezza con una mostra presentata dal Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Un lungo viaggio per immagini nelle diverse forme espressive del Novecento per evocare l'importanza di gesti, emozioni e visioni che la pandemia ci ha a lungo negato. Sono queste le suggestioni della mostra Social e Immagini della Socialità in Italia fra Liberty Art Deco a cura di Nadia Marchioni, aperta al pubblico dall'11 luglio. L'esposizione, che si tiene al Palazzo Medicio di Seravezza in provincia di Lucca e segna la riapertura dello storico edificio Patrimonio Unesco è uno degli eventi espositivi di maggior rilievo della stagione estiva in Versilia. Questa mostra che dà la possibilità finalmente di riaprire al pubblico, dopo i lavori di climatizzazione che abbiamo anche sovvenzionato come Regione Toscana, un luogo bellissimo. Il Palazzo Medicio è il simbolo forte di quella che era la Toscana di Cosimo dei Medici. Era il luogo che lui utilizzava insieme alla sua famiglia per andare a visitare le cave di marmo e per vivere quel territorio. Un luogo stupendo, un luogo affascinante, che anche grazie a questa mostra tornerà a splendere. Io ringrazio la Fondazione Cirulli, ringrazio l'amministrazione di Serravezza per il lavoro enorme che sta svolgendo, ringrazio Nadia Marchioni, la curatrice della mostra. Una mostra che consiglio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini della Toscana di andare a visitare. Una mostra che tiene insieme, esattamente come vedete alle mie spalle, da un lato la storia, la bellezza, le radici, i valori della nostra Toscana, ma dall'altro anche le ali, le ali per guardare verso il futuro, verso la modernità. È davvero un bel regalo che state facendo alla Toscana e ai cittadini toscani. Io mi auguro che possa essere visitata da tanti toscani, ma anche dai tanti turisti che verranno a vivere la nostra splendida costa. Una riapertura in grande stile di Palazzo Mediceo che riesce quindi a riaprire le sue porte ai cittadini e ai turisti in una stagione che si preannuncia per tutta la Versilia, una stagione veramente importante dal punto di vista numerico delle presenze. Quindi a Seravezza il Palazzo Mediceo con la mostra Social e Sociale vuole essere protagonista dell'estate della Versilia. Questa mostra si intitola Social e Sociale, letto tutto insieme, vuole fare riferimento appunto a questo periodo durissimo che tutti noi abbiamo vissuto e che speriamo esserci lasciati alle spalle e proprio al fatto che le tecnologie, l'informatica ci ha supportato molto a mantenere i nostri rapporti sociali, la nostra socialità. La mostra però appunto vuole anche recuperare l'idea della socialità che tradizionalmente tutti noi abbiamo vissuto e che insomma molto gioiosamente, ottimisticamente ci apprestiamo a rivivere. E' una riflessione appunto come questi riti sociali in qualche modo erano già molto presenti e diffusi già certamente dalla fine dell'Ottocento. Per noi è assolutamente un appuntamento molto importante, un simbolo della ripartenza del settore artistico e culturale che come sappiamo è stato costretto a fermarsi per moltissimo tempo a causa della pandemia. Quindi un bel segno di ripartenza che ben si sposa con quello che è il nostro lavoro di Fondazione Cirulli una fondazione privata istituita nel 2015 ma che ha alle spalle un lavoro di oltre 30 anni in abito artistico-culturale. Grazie mille. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie mille. Grazie mille.